Quinta corsa premio Superplay e un miglio per anziani di categoria F sono rimasti in 9 dopo i ritiri di Wozzi numero 6 che era non partente e di Rambo di No numero 9 Prima fila con 6 concorrenti Verdicchio MDM Antonio Di Nardo, Tonight Lux, Vitale Matera, Vicky Lashmi, Alessandro Gocciadoro, Tank Ghil SM, Amideu Valentini, Ulisse SM, Dario Battistini e T4Tufont Roberto Vecchione Seconda fila per Rufi Naspina, Antonio Storti, Refosco Lag, Paolo Pietro Paoli, Euragano Sticca, Gianpaolo Minucci Parte piano Verdicchio MDM, coglie avvio perfetto dall'esterno T4Tufont e va facilmente a condurre nei confronti di Tank Ghil SM La terza posizione è per Tonight Lux, all'esterno rimane invece Ulisse SM che allora punta deciso su T4Tufont Poi Vicky Lashmi, Verdicchio MDM all'esterno Uragano Sticca, c'è il via libera per Ulisse SM, non si oppone T4Tufont Il quarto iniziale va via in 28 e 2 per Ulisse SM che ha tolto il comando a T4Tufont Segue in terza posizione Tank Ghil SM a precedere Tonight Lux, Vicky Lashmi, Uragano Sticca che riesce a sopravanzare Verdicchio MDM Poi in coda Rufina Spin, in coda Refus Colag Lunghissima fila indiana con andatura sostenuta da parte di Ulisse SM Che completa il mezzo miglio iniziale in 58 e 2 Lo segue sempre il favorito T4Tufont davanti a Tank Ghil SM Muove ora Vicky Lashmi nel tentativo di girare Tonight Lux, andare in quarta posizione in anticipo su Uragano Sticca Sempre in vantaggio Ulisse SM nei confronti di T4Tufont Poi Vicky Lashmi che insiste a largo sopravanza ora Tank Ghil SM Per emergere in terza posizione anticipando Uragano Sticca Paletto dei 1.200 raggiunto in 1.26 e mezzo da Ulisse SM T4Tufont può aspettare fino all'ingresso in retta arrivo per spostare dalla sua scena Anticipa su Vicky Lashmi ma Ulisse SM ancora in vantaggio e sembra in grado di distendersi T4Tufont non persevera al contrario di Vicky Lashmi che si lancia all'inseguimento di Ulisse SM Ulisse SM ancora in vantaggio su Vicky Lashmi e T4Tufont Ulisse SM in vantaggio su Vicky Lashmi si difende Ulisse SM e controlla fin sul palo gran percorso di testa per Ulisse SM davanti a Vicky Lashmi E T4Tufont davvero un numero per Ulisse SM 1.57 scarso sul mio cronometro che significa media intorno all'1.13.1 per Ulisse SM con Dario Battistini nei confronti di Vicky Lashmi e di T4Tufont per i numeri 5.37 questo è l'arrivo ufficioso della quinta di capanella Ulisse SM che ha ottenuto in 300 metri di via libera T4Tufont ha imposto ritmo sostenuto e ha controllato per una lunghezza scarsa un ottimo Vicky Lashmi mentre T4Tufont ha parzialmente deluso però è arrivato ancora al terzo posto Grazie a tutti